Buonasera amici e amiche, questa sera per le inchieste di Sinapsi siamo in collegamento telefonico con Rossella Gioia Tabace, portavoce del comitato spontaneo Nati Liberi. Buonasera Rossella. Buonasera a tutti. La prima domanda che le voglio porre, che cos'è e perché nasce questo comitato? Questo comitato è nato nel corso degli ultimi 9-10 mesi ed è nato in maniera del tutto spontanea, siamo tutti genitori, c'è anche qualche nonno e ci siamo incontrati nelle piazze, nelle manifestazioni, negli incontri, mentre facevamo scudo contro il decreto Lorenzin, poi trasformato in legge a fine luglio. Il decreto Lorenzin è il decreto che ha stabilito l'obbligatorietà di 11 vaccinazioni per i neonati e collegando l'obbligo alla frequenza scolastica, per cui prevedendo che i bambini non vaccinati non potessero frequentare nidi e materne e che invece per i più grandicelli, cioè dai 6 ai 16 anni, non potessero continuare a frequentare le scuole, ma pagando una sanzione qualora non ottemperassero l'obbligo vaccinale. Lei perché ha deciso di far parte di questo comitato? Ma guarda, io sono in prima fila contro questo decreto, contro l'obbligo vaccinale, perché ritengo che l'obbligo non sia la strada giusta per convincere le persone a effettuare un trattamento medico. Si tratta di un trattamento sanitario obbligatorio a tutti gli effetti e peraltro si tratta di una sperimentazione a tutti gli effetti, perché tanti dei vaccini che attualmente vengono inocurati ai nostri bambini sono sottoposti a monitoraggio addizionale. Questo significa che si tratta di prodotti per i quali non esiste sufficiente letteratura, sufficiente sperimentazione appunto. Inoltre, oltre ai singoli prodotti sottoposti a monitoraggio addizionale, è l'intero cocktail che non è mai stato sperimentato su una popolazione pediatrica. 11 vaccini, ripeto, da inoculare a partire dai 60 giorni di età. Si tratta di 33 antigeni nel corso del primo anno di vita. È una cosa che non è mai stata sperimentata. Quindi di fatto i bambini italiani sono cavie. Questa cosa ovviamente mi disturba e disturba tutti i genitori con i quali mi sono confrontata in questi mesi, non soltanto a Bari ma in tutta Italia. Diciamo siamo uniti da questa militanza contro l'obbligo a favore della libertà di scelta. D'altro canto la libertà di scelta è indispensabile laddove ci sia anche un minimo rischio. E siccome i vaccini sono dei prodotti medici, farmaceutici a tutti gli effetti, il rischio è implicito. In realtà voi proprio in forza di questa vostra battaglia avete deciso di commissionare e fare affliggere un molto discusso manifesto. Ci può spiegare qual era il contenuto del manifesto, ma soprattutto cosa è successo una volta esposti? Noi a dicembre scorso abbiamo pensato, immaginato una campagna informativa. Abbiamo commissionato tre manifesti, sei per tre, da fare affiggere in tre punti nevralgici della città di Bari a partire dal 27 dicembre. I manifesti sono stati affissi e tutto è andato bene fino circa al 3 gennaio quando un pediatra ha pensato di scrivere un accorato appello social al sindaco di Bari De Caro invitandolo a far rimuovere immediatamente i manifesti che pareva procurassero enorme allarme fra la popolazione, vanificassero il lavoro appunto dei pediatri che stavano convincendo e invogliando i genitori a far vaccinare i loro bambini. Il post provocava veramente un delirio social su Facebook. Ci sono stati centinaia e centinaia di commenti, tra i quali quello del sindaco, il quale si è dichiarato incompetente a intervenire sul contenuto dei manifesti e sulle affissioni, ma ha promesso al pediatra che avrebbe immediatamente sollevato la questione al Ministero della Salute. In questo caso il ministro Lorenzini è stato efficientissimo, perché nel giro di poche ore sono arrivati al comune di Bari Inas, che cercavano appunto il nome dell'agenzia che aveva fatto affiggere i manifesti e i manifesti sono stati rimossi la sera del 4 gennaio e c'è giunta voce a mezzo stampa che la signora Lorenzin avrebbe depositato una denuncia contro di noi per procurato allarme. Alla luce di tutto questo, volevo chiederle per concludere questa interessante intervista, cosa chiedete alle istituzioni sostanzialmente? Guarda, io le rispondo con una frase che sembra uno slogan, ma che dà l'esatto senso della nostra battaglia. Dove c'è il rischio deve esserci scelta. Nessun medico, nessun scienziato, nessun biologo, nessun pediatra potrà mai affermare che la vaccinazione è esente da rischi. Dunque, se c'è un rischio deve esserci scelta. Noi chiediamo allo Stato di essere lasciati liberi di scegliere sulla pelle dei nostri figli, sul futuro dei nostri figli. Nessuno ci deve imporre un trattamento sanitario obbligatorio, perché questo è soltanto forse il primo passo di qualcosa di peggio. Nessuno deve poter disporre del corpo di mio figlio, soltanto un genitore deve potersi assumere questa responsabilità. Dunque, lo Stato deve lasciarci liberi e solo questo. Quindi, per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano. Buona serata a tutti.